E-mail finanzia le imprese che migliorano le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con un contributo del 65% della spesa sostenuta fino a un massimo di 130.000 euro per progetti di investimento e con una riduzione del premio assicurativo per gli interventi di prevenzione realizzati nell'anno precedente per le imprese attive da almeno due anni. Costruisci il futuro della tua impresa. Informati su E-mail.it E-mail sostiene le imprese che investono nella sicurezza dei laboratori.